Quale momento migliore se non questo per iniziare a parlare in un qualche modo di calcio mercato? Più che altro perché dobbiamo iniziare a farci il callo su questo tema perché qui il 13 novembre finiscono i campionati a favore dei mondiali quindi considerando che poi le competizioni di club torneranno verso l'epifania ci saranno quasi due mesi a grandi linee di nulla a livello di club dove puntualmente si inizierà a parlare in un modo anche abbastanza prepotente di calcio mercato e quindi questo video serve in un qualche modo da infarinatura generale perché ovviamente la prima parte di stagione ci ha fatto capire che la Juventus qualche lacuna all'interno della rosa ce l'ha e in alcuni casi non è che sia una lacuna è proprio una voragine e quindi si iniziano ad intavolare qualche nome così che potrebbe tornare anche abbastanza prepotente durante la sessione invernale di calcio mercato e mi sembra giusto ovviamente soffermarmi un minimo per quanto riguarda ogni reparto della Juventus che ha dimostrato di essere un pochino lacunosa in questo inizio di stagione perché per fortuna si può ancora parlare di inizio però ovviamente va fatta una premessa ad oggi fino a prova contraria si parla di nulla a maggior ragione poi nel momento in cui certe notizie vengono per esempio date da tutto sport e che quindi se già si parla di nulla di base il fatto che ne parli tutto sport lo certifica con due tre sottolineature però sono discorsi che indubbiamente all'interno dei piani alti della Juventus si stanno già iniziando a fare per forza di cose perché per quanto possa sembrare distante il calcio mercato invernale di fatto è quasi alle porte e considerando il tempo limitato che avrai per fare determinate operazioni se vuoi effettivamente chiuderle entro quel determinato tempo devi iniziare a muoverti adesso e la Juventus pare si stia muovendo su diversi fronti in realtà il primo è indubbiamente tanto per cambiare quello dei terzini solo che qui non è che ho una critica da fare però ho una riflessione perché al momento si sta solo ed esclusivamente parlando del terzino sinistro che da un certo punto di vista è legittimo comprensibile tutti quanti lo vorremmo sin da gennaio anche perché sappiamo che Alexandro è in scadenza ad oggi non è che la Juventus abbia proprio tutta questa grandissima voglia di rinnovare il giocatore e mi sento da aggiungere ci mancherebbe altro e i nomi in pole sono quelli di Guerrero del Borussia Dortmund e del solito Grimaldo del Benfica e io qui onestamente non mi sento neanche di entrare nel merito sono meglio di Alexandro? sì punto cioè posto per me si potrebbe concludere tranquillissimamente qui quello che però mi sento di dire è va bene tutto quanto però quello destro più che altro perché sulla carta noi ci avremmo Danilo e Quadrado Danilo ormai è a tutti gli effetti un centrale adattato anche perché l'abbiamo visto che quando veniva messo come terzino qualche difficoltà diciamo che emergeva in modo anche legittimo magari però ad oggi si fa fatica a considerare Danilo come un terzino punto ormai non dico che sia solo ed esclusivamente un centrale però diciamo che in quella zona di campo lo stiamo vedendo tutti quanti decisamente meglio ecco e quell'altro quadrado che anche lui fino a prova contraria continua ad essere un giocatore in scadenza e quindi sapete sulla carta ok c'è assolutamente da lavorare sul terzino sinistro ma anche la questione terzino destro non è che sia proprio banale e tra le altre cose pare non lo sia neppure la situazione difensori centrali perché se per esempio il terzino sinistro è stato messo lì sul piatto da tutto sport il Corriere di Torino parla anche di una Juventus che vedendo quella che è tra le altre cose la situazione di Gatti, Rugani, Bonucci pare stia pensando stia ragionando anche su un difensore centrale e i nomi a grandi linee continuano ad essere sempre gli stessi Badia Schill, Ndika e Igor della Fiorentina sono ovviamente nomi buttati un pochino nel casino nomi messili per fare un elenco io potrei fare anche qui una riflessione personale ovviamente ci mancherebbe su quella che è la situazione difensori centrali e l'unica cosa che mi sento di dire io è se la Juventus al momento sta davvero pensando a prendere un altro difensore centrale beh fa bene tanto Bonucci le garanzie non te le dà né sul piano fisico né tantomeno su quello di gioco cazzo nell'ultimo periodo entra e fa danni gioca e fa danni e quindi ci può stare che la ragioni sull'andare a prendere un difensore centrale magari da poter utilizzare come titolare ancor meglio poi se è giovane assolutamente sì è vero a me continua però a dispiacere per Gatti che tra l'altro ieri ha vinto proprio il premio di miglior giocatore della Serie B che dopo la brutta parentesi di Monza che indubbiamente ha avuto come anche gli altri 11 compagni di squadra più subentrati non sta più vedendo campo neanche per sbaglio magari se non ci sono o vuoi fargli fiatare uno tra Bremer e Bonucci o gioca Danilo o gioca Rugani vedremo adesso se effettivamente prima del rientro di Bremer anche Gatti riuscirà a trovare effettivamente dello spazio boh ho paura che la brutta partita di Monza che ribadisco indubbiamente ha fatto sia stata una sorta di bocciatura nei confronti del ragazzo spero ovviamente di no anche perché è stato comunque un investimento di 10 milioni fatto una decina di mesi fa quindi nel senso provare a puntarci non sarebbe una roba orrida dal mio punto di vista ma questo appunto solo il tempo ci darà una risposta a riguardo e poi si continua a parlare pure del centrocampo pure del centrocampo nonostante che ad oggi a livello numerico quantomeno non qualitativo magari ma numerico indubbiamente sì la Juventus ha un importantissimo numero di centrocampisti sempre tutto sport ha parlato di una possibilità di De Paul che sembra in rottura con l'Atletico Madrid sempre tutto sport tanto per cambiare oggi era in vena di Listoni ha parlato di Lovric giocatore dell'Udinese che indubbiamente sta facendo tanto bene quest'anno con Sottil ma a grandi linee credo che proprio tutto l'Udinese al momento stia decisamente overperformando e pare che la Juventus abbia messo gli occhi su questo giocatore in un modo anche abbastanza importante in più sta seguendo anche Calemba giocatore 2005 del Mainz il nuovo Barella dove si potrebbe fare un'operazione simile a quella di Ildiz preso dal Bayern di Monaco che sta stupendo tutti quanti in primavera e più che altro sta dando conferme su conferme di quello che potenzialmente è un talento non indifferente e vedremo se magari proprio a partire da gennaio verrà inserito all'interno dell'Under 23 per calpestare un palcoscenico più importante che ti dà effettivamente la possibilità di far vedere effettivamente quelle che sono le tue potenzialità perché per quanto sia sicuramente allenante un campionato primavera beh un campionato di Serie C indubbiamente è tutt'altra cosa però appunto c'è la possibilità anche di prendere il nuovo Barella cazzo almeno una volta si parlava di nuovo Messi di nuovo Cristiano Ronaldo di nuovo De Bruyne se adesso il metro di paragone è il nuovo Barella insomma ci sta un attimino anche mettere le mani avanti su questo giocatore se mi dici è il nuovo De Bruyne aspetta forse un'occhiatina ce la do se mi dici è il nuovo Barella aspettiamo un attimo però una cosa che non dico che sia certa però dove tutti quanti indubbiamente dovremmo stare molto attenti è appunto il calciomercato di gennaio dove ci potrebbero essere diverse operazioni in diversi reparti io quelli riguardo il centrocampo ad esclusione ovviamente di questo ragazzo li prendo un pochino con le pizze quei nomi riguardanti la prima squadra perché ok va bene tutto quanto però appunto si sta parlando di un po' Bacchia come obiettivo la partita contro il Benfica per rientrare ci sono i vari Paredes Locatelli McKennie Fagioli e Miretti ci sono i giocatori quindi nel senso ne vai a prendere un altro cioè va bene ok lo puoi fare indubbiamente però poi ti devi sbarassare di qualcuno non so onestamente non so però stiamo attenti perché la situazione terzino quanto meno pare c'è diventata sempre più prioritaria anche proprio per la Juventus l'unica cosa che mi sento di dire io è cazzo finalmente finalmente forse è la volta buona che avremo un terzino sinistro vivo che dai non sarebbe male come cosa e certifica a grandi linee quello che un pochino tutti avevamo detto dopo la chiusura del calcio mercato estivo vanno bene magari certi colpi però la difesa insomma non dico che è uguale cazzo eppure peggio perché tra l'altro si è andato a dar via pure i giocatori il miglior difensore centrale il terzino sinistro di riserva ne avevi preso un altro l'è subito girato via quindi c'è probabilmente una difesa ancora più lacunosa e non dico che queste voci lo certificano perché di fatto le voci rimangono voci vedremo se lo certificherà invece il calcio mercato invernale spero di sì quello che poi accadrà io ovviamente non lo so voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao 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 ciao